Buongiorno, ciao Chiara. Chiara Perazzo è qui con noi oggi. Ci vuoi raccontare qualcosa di te, insomma, quando sei nata, dove, la tua famiglia, se hai avuto qualche insegnante nella tua formazione familiare importante? Mi chiamo Chiara Perazzo, sono nata a Bologna nel 22-244. Ho insegnato, ho in famiglia di insegnanti, c'è stata la mia nonna che insegnava alle Laura Bassi, a Righi, francese e anche bella calligrafia alla scuola per femmine, che era la scuola delle Sirani, del comune. Questa era, diciamo, la storia di famiglia come insegnanti. Io come scuola ho fatto, subito dopo la guerra, le scuole elementari dentro alla Madonna grassa, quella Madonna che c'è portico di Saragozza, sotto e di fianco c'erano delle aule molto arrangiate, era il tempo di guerra, prima erano state case per gli sfollati, dopo è diventata una scuola, prima elementare e poi media. Di quel periodo io mi ricordo solo appunto la struttura, anche perché la continuo a vedere passandoci davanti, ma degli insegnanti proprio non mi ricordo niente. La cosa che mi ricordo fra la primaria, le elementari e le medie, che non mi hanno fatto certo amare la scuola. Era anche un periodo storico particolare, quindi non do, penso solo che non mi hanno lasciato un bel ricordo. Poi ho fatto una scuola privata, un diploma che ho capito bene che non mi sarebbe servito, quindi mi sono invece rivolta all'Istituto di San Vincenzo de Paoli, dove preparavano allora solo loro le insegnanti per la scuola di grado preparatorio, si chiamava. L'ho fatto privatamente, là sarebbero stati tre anni, mentre io l'ho fatto in due, non è che ci ho guadagnato molto, però un anno. Ho studiato insieme a Mariella, una mia amica, abbiamo studiato insieme, andando solo a lezione di pedagogia. Per il resto abbiamo studiato fra di noi, con l'aiuto dei vari parenti che sapevano, eccetera, eccetera. Ho fatto la prova teorica nel 65, poi dopo ho fatto il tirocinio presso quella che poi sarebbe diventata la scuola cesana, che adesso è la cesana, che allora però era dentro dei negozi, in un palassone, e lì ho fatto il tirocinio per un anno, dove non ho imparato assolutamente niente, perché l'insegnante, non so, parlava dell'acqua, faceva la lezione che cos'era l'acqua, poi diceva silenzio tutti, niente domande. Quindi io dovevo solo trascrivere nel mio diario che ho tuttora la sua lezione. Dopodiché la cosa bella per me è stata che c'era la cosiddetta ricreazione, allora io mi mettevo nel gruppo dei bambini, i quali naturalmente facevano le domande sull'acqua, perché non avevano capito. Quindi ho imparato ad ascoltarli, facendo così, facendogli parlare, facendogli fare le domande. Questo è il ricordo del tirocinio che ho. Nel 1966 ho fatto l'esame per essere abilitata. Poi ho cominciato la carriera, diciamo io, per entrare in carriera tutti i corsi che davano punteggio. Ho fatto il corso a Montessori, il corso a Gassi, il Pissigone a Milano, che non è molto noto ma allora c'era, e quello dei sordomuti di specializzazione per l'insegnamento ai sordomuti, che quelli erano i corsi che davano un punto e mezzo, quindi era una cosa molto importante. Nel contempo ho fatto anche tre concorsi, in altre, uno a Livorno, San Donato Milanese e l'altro a Forlì, perché anche quei concorsi ti davano punteggio per le graduatorie. Poi ho fatto, che non mi ricordo neanche più i titoli, un sacco di corsi da 0 a 50, cioè proprio il minimo, e ho fatto anche quelli per entrare nella graduatoria, dopodiché ho cominciato a fare i campi solari, si chiamavano allora, e potevo fare fino a 100 ore, che venivano messi poi sempre nella graduatoria di servizio, fino al 69-70 che ho avuto finalmente un incarico alla palazzina. Bene, grazie intanto per queste indicazioni. Corsi Montessori l'avevi fatto qui a Bologna? No, l'ho fatto a Ferrara, era Ferrara nel 68, nel 68 a Ferrara con la Sorge, ed eravamo molte di Bologna appunto che miravano avere il punteggio, eccetera, eccetera. È stata una bella esperienza il corso Montessori a Ferrara? Allora, io del corso Montessori non ho dei bei ricordi, perché a me facevano impressioni i bambini, muti, silenziosi, un silenzio in quella scuola che mi lasciava, cioè non vedevo i bambini bambini, io che avevo scelto di, dopo delle tante così incertezze di fare l'insegnante, lì non ho certo visto dei bambini liberi, ecco, tant'è vero che c'è stato un episodio spiacevole perché io a certo punto sono uscita dalla scuola insieme alle altre e ho cacciato un granullo liberatorio. Dietro avevo la Sorge che mi disse subito peraltro mi dispiace, non avrà il massimo di puntetti. Però io, per me i bambini muti mi avevano preso l'angoscia, quindi non ho un bel ricordo del metodo Montessori. E il corso dei ragazzi? L'agazzi l'ho fatta a Monpiano, vicino a Brescia, è diverso, i bambini erano più bambini, poi vabbè con dei limiti, sta storia dei lavorini, mi ha sempre, anche dopo, lasciato molto perplessa, però i bambini erano bambini, vivi, ecco, a differenza di quelli che avevo visto a Montessori, sono stati bravi con i cubetti, ma niente di più. E quello Pizzigoni? Il Pizzigoni era a Milano, è una scuola da vedere terribile di quelle, dei vecchi costruzioni e così, però era piacevole, loro giocavano molto sull'aspetto esterno, vivere in giardino, tutto quello che era, diremmo adesso, la cultura del verde, eccetera, eccetera, quindi a me era piaciuta abbastanza. Poi allora era un altro che dava tanti punteggi, anche se è sempre una Brescia e una Milano, è stato un bel avanti e indietro. E quindi nel comune di Bologna poi sei entrata di ruolo? No, nel comune di Bologna ho avuto il primo incarico nel 69-70 alla palazzina dei Giardini Margherita, che si chiamava Gabriella degli Esposti. Il ruolo l'ho avuto dopo, l'anno dopo sono entrati i ruoli e sono rimasta sempre lì, fino al 72, dopo un 72 anni fuori dalla scuola e poi sono tornata. Ecco, nel 69 Bologna era amministrata da una giunta rossa e l'assessore all'istruzione era Ettore Tarozzi ed era presente Bruno Ciarri. Tu hai conosciuto Bruno Ciarri? L'ho conosciuto quell'anno lì. Dunque, io sapevo di questo nuovo corso, le scuole innovative, però i corsi erano abbastanza a numero chiuso, cioè non prendevano tutti e poi non veniva fatto sempre. Per cui io, che ero appena arrivata, era il primo anno praticamente che ero nella graduatoria, non avevo fatto il corso, però avevo sentito parlare di quello che Ciarri stava facendo, ma non avevo fatto i suoi corsi. Quando mi è arrivata la richiesta di andare in una scuola di Ciarri, io sul momento ho detto sì, dico ma io non ho la... ma quest'anno abbiamo molto bisogno di personale. Se puoi per un anno, dico ma io non ho problemi, anzi mi interessa vedere le nuove teorie pedagogiche di cui avevo sentito parlare, ma fisicamente non sapevo chi era, le cosiddette Ciarri non le avevo mai viste. Quindi è stata un'entrata un po' traumatica, un mondo molto diverso da quello che avevo visto, anche perché facendo la supplente, facevo la supplente il pomeriggio, perché allora c'erano i due turni, e nelle scuole trovavi gli armadi chiusi, quindi di innovativo non avevo visto niente. Quindi la cosa mi interessò e ho detto di sì, e sono andata alla palazzina, abbastanza scioccante l'inizio, perché era proprio un mondo che io non conoscevo. Però piano piano, arrivo a Ciarri, mi ricordo quasi subito, cominciamo a settembre, a conoscermi, sì, vabbè, a scuola, poi chiaramente c'era una persona nuova, abbastanza intimidita, e mi disse tranquillamente che mi avrebbe sostenuto nel percorso pedagogico, che sarebbe stato a fianco a me. La cosa che mi fece molto piacere fu che lui, i bambini facevano chiassi ed era contento, abituata a regimi molto rigidi, e quella cosa lì è la cosa che mi è piaciuta di più, diciamo, nel senso lasciare liberi i bambini. Dopodiché l'altra cosa molto bella che ho notato, ma anche le ragazze che c'erano, le mie colleghe, questa capacità di ascolto dei bambini, ascoltare i bambini, ed è la cosa che mi è rimasta impresso. Poi niente, poi la routine, la scuola aveva due aule, una da una parte, una dall'altra, e il mese cosiddetto salone, sotto alla palazzina allora c'era la cucina, per cui era bello che il mangiare arrivava, si andava anche a vedere come funzionava la cucina, e sopra c'era la biblioteca, delle volte con Ciarri andavamo anche su con i bambini, quindi fu una bella esperienza, che è continuata tutto l'anno, e quando siamo arrivati a primavera, Ciarri ci propose di accogliere la delegazione di Zagabria, perché il comune aveva fatto nel 63 il gemellaggio. Ecco, questa è una storia poco nota, questa del gemellaggio con la città di Zagabria, quindi tu sei stata, come dire, pienamente coinvolta in questo anno molto intenso, in questo anno di formazione, anche a un nuovo sistema, diciamo, di tipo pedagogico, e ricordi questa esperienza, potresti raccontarla dal punto di vista dell'insegnante, insomma, informazione che era all'interno. Allora, ci fu spiegato del perché venivano, perché nel 63 appunto il comune aveva fatto questo accordo, che era commerciale, sanitario, ecologico, perché già allora parlavano delle questioni della natura, educativo e culturale. Nel corso di quegli anni, qui parliamo del 69-70, quindi in quegli anni avevano già fatto molti percorsi insieme, tant'è vero che poi nel 73 ci fu lo scambio, l'approvazione reciproca, diciamo, e quindi a noi toccò la scuola, la scuola nel senso che loro volevano vedere se era trasferibile il modello che aveva costruito Ciarri, in alcune scuole erano solo 3 o 4, non erano tante voglie, però se quel modello poteva essere trasferito anche nelle scuole di Zagabria. E che tipo di modello era? Qual era la differenza? Cioè come eravate organizzati anche sul piano proprio interno di tipo didattico, il setting, i ruoli anche fra di voi, ecco? Allora, innanzitutto era il ruolo di entrambi era paritario, non so come dire, poi c'era certo quella che la responsabile, la Franca, che teneva anche i fili con l'amministrazione, ma questo è un altro discorso, all'interno della scuola dal punto di vista pedagogico eravamo tutte sullo stesso piano, nel senso che io, che ero l'ultima arrivata, ascoltavo molto, mi facevo consigliare. Dunque, si faceva i primi lavori di gruppo, con i bambini per età, perché una volta erano le sessioni chiuse, invece lì le sessioni erano aperte, tant'è vero che la palassina era anche molto comoda, perché aveva le due aule di lato in mezzo a questo salone, per cui facevamo i gruppi di lavoro, delle volte per età e delle volte per interesse, cosa che abbiamo mantenuto anche negli anni. Facevamo questo tipo di lavoro. L'altra cosa che ci era richiesta da Ciari era che i lavori fatti dovevano essere visti, cioè il prodotto che doveva essere dei bambini, non certo nostro, doveva essere visibile per i bambini stessi e per le famiglie, per tutti, insomma, come scambio, diciamo. E quindi noi facevamo questi lavori e li appendavamo, cosa che io non avevo mai visto. Parlavi dell'apertura delle sezioni all'interno della palazzina? L'apertura delle sezioni è consistita in questo, le due aule che proprio la struttura lo consentiva, si aprivano fisicamente, perché finché fai l'appello, finché conti i bambini, ognuno deve controllare i suoi ovviamente, dopodiché invece o per gruppi di età o per interessi, i bambini venivano messi nel mezzo, a gruppetti piccoli, gli altri rimanevano nelle aule, dove facevamo le attività specifiche. Le attività specifiche che dovevano essere documentate? Questo è un aspetto importante? Tutte le attività che facevamo dovevano essere documentate. Poi allora non c'erano neanche tante fotografie, macchine fotografico o altro, per cui era tutto basato sul disegno, sul quale noi poi scrivevamo quello che i bambini avevano detto mentre lo facevano, mentre chiacchieravano, eccetera. E questa attività molte volte, era presente anche Ciari, che ci, almeno a me che ero nuova, mi stimolava a fare le domande in modo che dopo venivano scritte. Venivano scritte sul disegno che il bambino stava facendo. Ok, e questa era una pratica che prima non si faceva. Io non l'avevo mai vista nelle altre scuole, quindi l'ho imparata lì e l'ho mantenuta negli anni. Sì, ed è una pratica anche molto adesso consolidata, diciamo. Evidentemente era introdotta proprio in quel periodo in maniera nuova da Ciari nelle scuole insieme a voi. E altri aspetti del modello didattico diverso che doveva essere forse trasferibile? Che ricordi? Era il periodo che c'era molto interesse sulle scuole dell'infanzia, anche sul piano politico nella città, per cui avevamo i materiali, i vari cubi, che a qualcuno diceva erano copiati dalla Montessori. Può darsi, però i blocchi di Ceccarelli, adesso mi è venuto in mente questo nome, che può darsi che siano nati nella sua mente dai blocchi della Montessori, però erano utilizzati in maniera diversa, per cui era uno stimolo che veniva dato ai bambini, molto diverso. Lo stesso la costruzione del gatenio, i blocchi bianco piccolo che era l'1 fino all'arancione che era il 10 e tutti i giochi, perché era anche talmente grande, che costruivi il percorso dei numeri e lo stesso il gatenino piccolo. Cioè, c'erano tante attività nuove, perché io non le avevo mai viste, oltre ovviamente il disegno, che doveva però essere la fase conclusiva. Anche i giochi col gateni, i giochi nella casina, quei giochi lì venivano poi trasportati, spesso, non sempre, nel disegno. Così rimanevano fermi come esperienza. Quindi questi materiali del gatenio erano già utilizzati in questi pochi mesi nella palazzina? Sì, nella palazzina c'erano già. E quindi non avendo tu frequentato i corsi, li sperimentavi sul campo direttamente? Non avendo fatto i corsi, io non li avevo mai visti, mentre le mie colleghe li sapevano già usare, me li hanno dovuti insegnare. Non è che si va a scuola per imparare, quindi io proprio non... E ricordi i nomi delle colleghe? Allora, la Franca Zamboni rimane la più centrale, poi c'era la Faravelli, però non mi ricordo il nome, poi non mi ricordo mica nessun'altra. Gli nomi non mi ricordo, mi ricordo la Franca perché poi siamo rimaste in contatto a lungo, anche dopo, anche dopo la morte di Ciaria, e anche quando io ho cambiato poi scuola, sono andata a scuole che non erano certo ciariane, però siamo rimaste amiche per cui poi ci confrontavamo, eccetera. Ricordo ce l'ho della Franca. Zagabria, quindi in quei mesi si stava sperimentando la possibile trasferibilità di questo modello pedagogico didattico a Zagabria. Allora, la trasferibilità del modello ci fu spiegata subito da Ciaria, che quindi dovevamo esporre verbalmente e anche fisicamente, diceva lui, quello che facevamo. Per cui la cosa che ci disse di fare subito, non so se la palazzina la conoscete, i soffitti altissimi, il palazzo ci fece tappezzare tutta la parte del salone, diciamo, in mezzo della palazzina con i disegni, i lavori dei bambini, con la scritta, come dicevo prima, del perché era stato fatto, la motivazione iniziale e il prodotto finale, eccetera. Lavoriamo una settimana intera per tappezzare, su per la scala, che ci dà anche paura, tutta la scuola con i lavori dei bambini. Ci disse di stare noi in ascolto, lui aveva molto la visione, l'importanza dell'ascolto, e quindi ci disse alcune cose, dovete rispondere, insomma, ci istrui un po'. Io stavo sempre un passo indietro perché quando non hai un'esperienza approfondita è meglio dire delle cose che non devi dire, però ho imparato. Dopodiché il giorno che è venuta la delegazione loro guardavano, facevano domande e noi cercavamo di rispondere perché loro erano sia dirigenti che educatori. Loro avevano gli educatori e quindi era, con gli educatori parlavi un po' più, dico io, tranquillamente, mentre con i vari dirigenti dovevi essere più approfonditi. Infatti io tante volte dicevo con Cagli questa domanda rispondi tu perché io non me la sento. Non avendo fatto le sue scuole io alcune cose proprio non le sapevo. Quindi non sapevi queste cose e a Ciarida vi anche del tu? Sì. Quindi non c'era una distanza anche se era il direttore delle istituzioni comunali? No, distanza con Ciarida credo proprio non ci sia mai stata con nessuno e per nessuno da come l'ho vissuto io forse perché ero nella scuola una sua scuola quindi lui ha messo subito e questo secondo me è stato un gran pregio tutti alla pari anche se io non avevo esperienza ero come la Franca che ne aveva parecchia ecco forse e penso che sia stato un pregio molto grande quando è stato l'ultima volta che lo hai visto? Allora alla fine dell'anno dopo Zagabria perché Zagabria doveva essere stata verso maggio-giugno dopo Zagabria lui venne a dire che eravamo state brave insomma faccio i complimenti mi sembra il minimo e mi disse a me ti ho guardata hai dei pregi hai dei difetti dico io come tutti dice sì adesso tu leggerai questi libri che ti do mi diede mi ricordo il libro del Diui però di altri non mi ricordo l'altro libro mi diede due libri il titolo di due libri dicendo tu studi quest'estate e quando torni ne ripariamo lui non tornò perché in agosto morì quindi io li ho letti però mi sono serviti dopo però io lui con lui dopo tu dopo hai partecipato al gruppo di studi Bruno Ciarri cioè dopo la morte di Ciarri è stato un evento molto traumatico per l'amministrazione comunale eccetera e sono state fatte una serie di iniziative allora dopo la morte a parte lo shock perché le Ciarine diciamo così della scuola erano abbastanza sconvolte visto che loro erano anni che lavoravano con lui io lo ero un po' meno ero rimasta solo dovevo riferire dei libri non avevo la controparte dopo abbiamo continuato come gruppo però io non andavo nei gruppi grandi di Ciarri solo nel gruppo della scuola a lavorare a portare avanti le sue teorie Franca faceva da tramite fra il gruppo delle Ciarine centrale dicevamo noi e la scuola e io sono rimasta lì fino a 72 altri due anni sempre nella palazzina sempre nella palazzina e i nomi delle altre Ciarine vi ricordi oltre alla Franca la Franca l'Anna Selva la Selene Banin che era invece alle Bombici poi non mi ricordo la Virginia Predieri però non essendo del gruppo solo quelle che poi per esempio Anna Selva e dopo l'hai continuata a vedere anche dopo per tante altre cose insomma non è che io sì mi ricordo loro senti l'esperienza così breve anche sostanzialmente con Ciarine secondo te ha influito poi nella tua professionalità successiva? Sicuramente mi ha mi ha servito e mi ha insegnato che i bambini vengono prima di tutto al di fuori di quello che noi in quel momento abbiamo in mente cioè si era prese le maestre vecchio stampo dico io nel far fare le cose ai bambini al di fuori dell'interesse dei bambini invece io lì ho imparato che la cosa più importante era appunto l'ascolto dei bambini osservarli quindi decidere anche insieme a loro in base a quello che avevo in mente io cosa fare come farlo questo io l'ho imparato lì e l'ho mantenuto nella mia carriera per me il bambino viene prima di tutto l'altra cosa che ho imparato e che bisognerebbe rimparare è lavorare in gruppo cioè noi adulti dobbiamo lavorare insieme non possiamo smentirci l'uno o l'altro sulle attività che facciamo sui discorsi che facciamo e le cose portiamo avanti questo dalla parte degli adulti dalla parte dei bambini lo stesso il bambino fa parte è un individuo che però è in un gruppo quindi io lo servo come individuo e lo tengo insieme al gruppo quindi il lavorare insieme in tutti i sensi l'adulto e il bambino c'è un aspetto che non è venuto fuori anche finora la questione della gestione democratica della classe e della gestione sociale che erano diciamo i cavalli di battaglia dell'epoca e anche di ciari dentro l'esperienza della palazzina l'avete sperimentata come erano i rapporti ad esempio con le famiglie che tipo è un modello nuovo era un modello nuovo quello che sperimentavate anche lì oppure no nella palazzina il rapporto con le famiglie parto da quello che era già il segno di gestione sociale era quando sono arrivata era già attuato diciamo c'era un bellissimo rapporto c'era serenità fra scuola e famiglia invece avevo visto degli scontri non da poco in altre realtà all'interno del gruppo degli insegnanti Totto Franca che io dicevo tirava le file del nostro del lavoro però c'era parità io potevo proporre una cosa l'altra era portata avanti insieme c'era questa cosa che poi è rimasta anche dopo del gruppo quella che tira le file di una situazione sia pedagogica che anche organizativa perché ricordiamoci che nella scuola dell'infanzia specialmente dobbiamo tenere presente che organizzare 50 bambini e 50 famiglie non è una cosa da poco quindi noi c'era che comunque tirava questo queste file le famiglie partecipavano alle vostre attività c'erano riunioni con loro allora le famiglie partecipavano alle cosiddette assemblee che erano le prime che si facevano dove devo dire non solo io eravamo tutti abbastanza inesperti erano i primi tentativi di parlare con le famiglie allora si partiva sempre abbiamo fatto che non so se era giusto o no dopo negli anni ho un po' cambiato l'aspetto però ai genitori si raccontava cosa si faceva quindi la partecipazione era ancora distante nel senso che eravamo più noi che parlavamo poi negli anni abbiamo visto invece che è cambiato tutto dopo erano anche i genitori che proponevano eccetera allora era ancora abbastanza così che tipo di utenza diciamo così come si dice oggi c'era nella scuola lì alla palazzina che tipo di bambini di provenienza familiare culturale sociale insomma avevate già dunque la scuola collocata dentro i giardini Margherita quindi le abitazioni su murri le colline eccetera quindi di per sé c'era già una certa diciamo elite che gravitava come iscrizione su quelle scuole in più essendo una scuola nuova nuovo indirizzo c'erano anche famiglie molto responsabili che cercavano anche l'innovazione cioè non avevano paura di affrontare il nuovo e quindi io ho avuto gli alunni di Camposvenuti che era allora l'architetto Bellettini che era il figlio di uno degli assessori di Frana della Marchesi di Ergiani che era appena trasferita però suo merito era medico vivevano già lì e lei studiava pedagogia e la figlia venne lì quindi c'era un certo ambiente sociale di un certo livello anche culturale e quindi era anche più facile lavorare rispetto a situazioni nuove io per quello che ricordo ho anche dei ricordi degli ex alunni che li ho anche rivisti di allora di un bambino ho avuto la mamma e ho ritrovato in un'altra scuola la nonna cioè cambiando scuola ho rivisto tutti la figlia la mamma e la nonna per cui è stata anche una cosa bella e della bambina ho cominciato con la palazzina l'avevo avuta lì e dopo poi la sua mamma è diventata la nonna degli altri bambini quindi è rimasto anche un legame molto forte quindi la tua attività diciamo didattica come maestra eccetera ha attraversato più generazioni ha avuto più generazioni di alunni in un territorio allora dal 68 in poi 69 in poi fino al 2006 di generazioni ne ho viste parecchie i miei ex alunni più vecchi della palazzina hanno dai 54 ai 56 anni questo dice da quant'è che io ho cominciato nella scuola perché campus deve avere più o meno 54 anni oltre all'esperienza come insegnante sei stata anche hai avuto anche un'attività sindacale allora io ho cominciato fin da subito quando dopo Ciaria ho capito che scuola volevo perché prima proprio giuro non avevo capito niente girando per le altre scuole ho cominciato anche a pensare che la scuola dell'infanzia che l'ho sempre chiamata così doveva essere per tutti non solo per i privilegiati cioè per i genitori che la cercavano e quindi ho cominciato le battaglie in sindacato insieme ad altre ragazze a cercare di far sì che venisse considerata scuola e non servizio alla persona scuola e quindi un diritto per tutti questa è stata la mia battaglia per tutto il periodo sindacale oltre che per i contratti vabbè per tutte queste cose ovviamente però il mio principio era doveva diventare scuola per tanto è vero che la scuola materna statale si chiamava è nata sull'esperienza di Bologna e di Reggio insomma c'eravamo tutti sindacalmente parlando unite per fare questa battaglia e far sì che la scuola statale poi con i limiti che sarebbe lungo da raccontare a partire dall'esperienza che hai vissuto con Ciari in quegli anni particolari magici quale consiglio ti sentiresti di dare alle nuove generazioni di maestre di insegnanti di educatori educatrici io credo che l'esperienza di Ciari come ha insegnato a me di lavorare per i bambini sia determinante purtroppo anche adesso si vedono situazioni dove si lavora per i grandi e non per i bambini quindi io quello che dico sempre anche alle tirocinanti che ho avuto che scuole hanno avuto tante è sempre stato ricordati che il tuo obiettivo è il bambino quindi ascoltarlo osservarlo ragionare dal punto di vista didattico cosa sei tu in grado di proporre cosa è in grado lui di ricevere mai mettere un bambino in difficoltà nel senso che devi misurarti con lui e siccome il bambino è un essere a sé bisogna stare molto attenti a questo l'altra cosa dico si studiate le teorie che sono importantissime però dopo dovete riadattarla al contesto che avete e dovete quindi avere una capacità di cambiamento situazionale enorme perché coi bambini non è mai uguale niente l'altra cosa per me importante rispetto anche alle famiglie forse perché io cambiando tre scuole di ambienti sociali diversissimi ho dovuto reinventarmi anche nel dialogo con le famiglie quindi la stessa cosa dico alle ragazze sappiate cogliere in ambiente sociale che livello potete parlare perché in molte situazioni non è per cattiveria non vi comprendono se non vi non vi cambiate modo di fare quindi una gran elasticità mentale secondo me sia con i bambini che con le famiglie e questo te l'ha insegnato Ciari sì che con i bambini Grazie a tutti.